... ... Maestelli è... ... per me è come un padre insomma. Gentili ascoltatori, buongiorno, eccoci puntuali all'appuntamento. Per me Vinter sa essere primo uomo e dopo tecnico, questa è la sua lotta migliore. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla a rete! Tommaso Maestrelli, un allenatore diplomatico, signorile, sempre moderato nel parlare. ... ... E' la prima volta che la Lazio, in 74 anni di attività, riesce a raggiungere il massimo tre quadro. E' un senso spietato, di un non ritorno. L'ultimo bacio, mio dolce bambina, brucia sul piso come dolce di limone. E' un eroe con coraggio, di un feroce Dio. Ma sono lacrime, mentre piove, piove. Sono lacrime. Mentre piove, piove. Mentre piove, piove. Mentre piove, piove. ... 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